Il giusto invece si riferisce all'intervallo proprio che c'è la distanza tra il 8 gradini, tra il do, do, do diesis, re, re diesis, re diesis, mi, fa, fa diesis e sol, eccolo qua. Praticamente sarebbe, vedi, 3 gradini, prima dei 3 gradini c'è il fa, come ti ho detto, il primo gradino dei 3 è il fa diesis. Allora, tra i due gradini dei 3, tra i primi due gradini c'è il mezzo e c'è il sol, questo è il sol e questo è l'intervallo di quinta, vedi, di quinta giusta. È l'intervallo di consonanza perfetta, dopo l'intervallo di ottava, do, do, ottava più alto, l'intervallo tra do e punto sol, che sono 3 toni e mezzo, 3 toni e mezzo, 8 gradini. Quindi, in pratica, è l'intervallo di consonanza perfetta, per eccellenza, non genera quasi nessun tipo di tensione. Pensa a Superman, tema di Superman. Questo è l'intervallo di, appunto, quinta. Questo intervallo è molto, molto consonante, non ha movimento proprio, consonanza perfetta.